Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore in questi giorni bussa al cuore di tutti, chiamando gli uomini al ravvedimento, chiamando l'umanità intera alla conversione e al ritorno massiccio a Lui. Il Signore pieno di misericordia, insieme a noi, fratelli, vede quando si agita sulla terra, quante difficoltà stiamo attraversando, quali pericoli stiamo correndo. Il Signore vede tutto questo e guarda con grande compassione e desiderio. Il Signore ritira mai il suo sguardo d'amore dal suo popolo e da ciascuno di noi. Siamo tutti oggetti della sua benevolenza, oggetti della sua attenzione, della sua provvidenza. Lui chiede a tutta l'umanità di tornare a Lui. In questi giorni la liturgia ci rivolge l'invito del Signore alla conversione. Abbiamo sentito in questi giorni le parole del Signore che diceva «Siate voi misericordiosi come misericordiose il Padre vostro. Non giudicate, non condannate, date una misura traboccandovi, saranno versati in seno, perché con la misura con cui misurate agli altri sarete misurate anche voi». E in questi giorni il Signore ci ha chiesto di tornare a Lui innanzitutto, di credere alla sua parola, di accogliere la sua parola, di obbedire a Lui, di sottometterci a Lui, come il genitore che dice al bambino, di comportarsi in un certo modo per evitare la sua caduta, che si faccia male, che si faccia del danno. non impone dei precetti fino a se stessi, ma finalizzata al bene della sua creatura. Così abbiamo visto come il Signore ci dona delle regole, ci dona delle leggi, ma non per soggiogarsi sotto le norme che ci tengono schiavi, ma per renderci liberi dai pericoli del male. Ecco allora l'invita ad ascoltare la sua parola, da aprire il cuore a Lui con la preghiera, perché Dio vuole vivere in noi, insieme a noi, camminare con noi, fare comunione con noi, condividere la nostra realtà, come ha fatto Gesù, figlio di Dio, che è venuto nel mondo a condividere la nostra condizione. Si è umiliati fino alla morte, alla morte di croce, si è posto all'ultimo posto per servirci, non per farsi servire, per cercare la nostra redenzione, non il proprio vantaggio, perché Dio è amore e vuole conformarci in tutto a Lui, a Gesù, come nostro Signore e Salvatore, figlio di Dio, ma anche figlio di Maria, vero Dio, vero uomo. E il Signore in questi giorni, fratelli, nella liturgia continua a chiamarci a conversione. E il primo passo della conversione è l'obbedienza alla parola di Dio, la sottomissione a Lui, accompagnata dalla preghiera per nutrire la parola e, nello stesso tempo, per coltivare la relazione con Dio, che ci deve condurre all'amore verso di Lui e all'amore verso il prossimo. Il segno che c'è nel cuore la conversione singela è proprio l'amore verso il prossimo. E nella liturgia di oggi, il Signore rivolge al popolo di Israele un richiamo. Il profeta Isaia, che visse intorno al settecento avanti in Cristo, si rivolge al popolo, ma con parole, dovremmo dire, offensive, con termini dispregiativi. Chiama il popolo Sodoma. Sodoma è la città del peccato. Chiama Gerusalemme Gomorra, un'altra città del peccato, che il Signore distrusse al tempo di Abramo e visse 1800 anni prima di Cristo. Quindi, oltre un mille anni prima di Isaia, quelle città non è stata distrutte dal fuoco, scese dal cielo. E il Signore per bocca del profeta, apostrofa, è il popolo di Israele con questi termini, per denunciare la corruzione che c'era in mezzo al popolo. Come sta avvenendo ai nostri giorni? Noi dobbiamo meravigliarci. Dunque ci giriamo, vediamo pornografie, vediamo l'isolenza. Termini offensivi, dispregiativi. Stiamo vedendo ai nostri giorni come i popoli si odiano tra di loro, si disprezzano, fino ad arrivare a minacce di guerra. Il Signore chiede conversione. E il primo gesto del pentimento dell'uomo è il riconoscimento, l'ammissione del peccato. Come dice Davide nel Miserere, Tu gradisci un cuore pentito. Tu vuoi sincerità nel cuore e nell'intimo mi insegni sapienza. Ho la sincerità del cuore. Chiediamo al Signore, fratello, che ci apra questo cuore. Alla verità della Sua parola e alla docilità ai Suoi insegnamenti. manda il Tuo Spirito, Signore, e tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra. Spirito Santo, che hai plasmato l'universo, che hai creato ogni cosa con sapienza e amore, che hai impresso nel creato la bellezza di Dio, Spirito Santo oggi, rinnova il cuore di ogni uomo che è stato toccato dalla corruzione, dal peccato, perché tutti i popoli si allontanino dallo spirito dell'odio, dalla violenza, dalla corruzione, dall'ingordigia, dalla superbia, per accorgere che conformi l'uomo a Gesù Cristo, che in tutto forme Cristo in noi, a Gesù la loda e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora le parole del profeta Isaia, che vengono rivolte al popolo. Ascolta la parola del Signore. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Abbiamo detto, Sodoma era stata distrutta del Signore mille anni prima, quindi queste parole non si riferiscono a quella città, ma al popolo tacciato di corruzione, quindi apostrofate con questo termine. Prestate quindi orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra, lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Ecco l'invito a cambiare cuore, e quando l'uomo peccatore, con umiltà, accetta la parola di Dio, ecco quanto il Signore promette. Venite a me e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. E' Lui che opera questo, fratelli, e' Lui che trasforma il cuore dell'uomo. Se fossero rossi come purpura, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e ribellate, sarete divorati dalla spada. Conseguenza del peccato è la morte, e il peccato tende sempre alla morte. Per questo in questi giorni, fratelli, si stanno moltiplicando tante le iniziative di preghiera per la pace. Ma non passa la preghiera, accorre il cuore sincero nel deporre l'avarizia, l'odio, e abbiamo visto come il Signore ci chiede non solo di non commettere peccato, non solo di non condannare, ma di adoperarci per la conversione di chi è lontano da Lui. Cercare la conversione anche di chi ci perseguita, di chi ci minaccia, di chi suscita guerre. Dio vuole che prevalga la potenza della misericordia in noi per cambiare la faccia dell'umanità. E il Signore aggiunge una minaccia, ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. E con la parola del salmista il Signore ci dice non ti rimprovero i tuoi sacrifici. Perché questo? Perché uno degli inganni di Satana è l'ipocrisia. cioè la ricerca della faccia della giustizia, ma senza la conversione del cuore. Allora il Signore fa come per bocca del salmista rimprovero a questo popolo dicendo non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò a vita della tua casa né capri dei tuoi ovili. Signore dice non è questo che mi da lode. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Ecco l'invita allora che il Signore ci fa chi mi offre un sacrificio di lode questo mi onora. E Gesù nel Vangelo in vita e i suoi che i tuoi